Junus, due punti in tre giornate? Credi ancora alla qualificazione? Sì. Junus, pensi che probabilmente siano stati i punti persi da Newcastle e Dortmund? Perché oggi è una partita complicatissima di sapere, probabilmente sulla carta è la più complicata. Ci può stare di perdere a Parigi. Chiaramente i due punti persi da Newcastle e Dortmund è qualcosina di rammarica di Mastow? Sì, sì, certo. Dopo quelle partite sapevamo che dovevamo vincere. Io a Junus, invece, mi concentro di più su questa partita perché sono stati 35 minuti fatti molto bene dal Milan. Comunque ha interpretato molto bene, ha tenuto bene il pallino del gioco. Parigi Saint Germain vi ha aspettati. Poi dopo, però, alla prima ripartenza, è successo qualcosa a scuola che non è più riuscito a reagire, soprattutto anche nella ripresa, con il gol lì poi annullato da Osmond de Belé e poi dopo però subito ancora il raddoppio. Ecco, c'è il rammarico di non aver trovato un gol in precedenza e soprattutto poi cos'è mancato per la reazione emotiva di questa squadra che comunque era sul pezzo per la prima mezz'ora abbondante? No, noi abbiamo sempre fiducia che potevamo segnare, fare bene. Durante tante partite anche loro hanno sofferto, non solo noi. Quindi era una partita difficile per tutte le due squadre. Sì, noi nelle occasioni non siamo stati così tanti attenti e abbiamo preso il gol. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.